la sfida del secolo porca puttana stanno aspettando alla vita my club mio con ronaldo il fenomeno contro my club mio con ronaldigno ecco quindi ho detto tutto ragazzi miei da la sigla andiamo via la sigla vai eccoci qua eccoci qua ragazzi dai famo lomini ben ritrovati siamo tornati su PES 2017 guardate le formazioni sinistra io destra tu ma che modo l'hai messo? 4 2 3 1 quello che uso di solito ho alzato solo le ali roba e nero dal dito mamma mia ragazzi miei guardate che attacchi stellari io direi che comincia subito mamma mia guarda la mamma mia vai cominciamo basta io batto eh vai vai non pensa a cose zuzzi a quando dico che batto guarda vabbè quindi sono problemi due ore ma che subito ronaldigno 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 ma quanto cuore ti giuro vorrei tanto provarlo tu però non hai mai provato ronaldigno ronaldigno eh dai eh dai non ho fatto manco un tempo cazza mamma mia guarda cazza di panacca attacca che ha tirato che panacca non te la faccio rivedere no no eh vedi scusa poi devi rivedere che parla oddio 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 odd gonzalo porta in vantaggio la roba guardavo la maglia della roma bellissimo bellissimo la maglia da roma se può guarda fammi rivedere bellissima stanzione a spaverellato guarda che azione non ci ho capito niente perché ma non c'erano ma non c'è posso credere aspetta rivediamo da qua che sicuramente lo fanno vedere mi sa l'ho presa di mano quei guai che testa di cazzo il calciopoli con mamma mia io non c'ho paro guarda ma hai rotto il cazzo pure il 2017 la stessa cambia mai cominciamo bene l'anno è una vergogna è una vergogna io comunque rosico non riesco ma che cazzo esulti ma che cazzo esulti io non riesco a giocare bene quando è così perché so già che sto a perdere non dovevo cioè la piada di mano sto testa di cazzo guarda 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 ecco io ci ho piato gol così io ci ho piato tu l'hai fatto gol e tra l'altro manco valeva ma te vergogni no ti dovresti vergognare a chi va e te va dai parti subito col contropiede dai che te ne vai esagerato è la foca o no 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 non posso prendere colla adesso così dai cazzo cazzo non ce la faccio mai che esulta stona merda sterling oh stava 1 a 0 per me state zitto eh state zitto ma che mi sono messa la maglietta dalla Lazio ma che è sta roba no c'è scritto argentina c'è scritto ma mannaccia quel palco riguardo che si è fatto perdere dalla foca dei ronaldino dalla figa che si è fatto via ma questo è regolare però bello di casa guarda che tiro a giro qua arriva questo fai collo di tacco con le mani è argentino proprio eh certo a mano di dios io l'ho toccato ma hai bloccato era follo per me per te a me a centro iguain mannaccia parlo poco capito fallo è come no ma che è collina o è cambiasso lo cambiasso albunisce dal volizio ma che gli è stata l'estrema unzione gli è stata costa riproverà che dio ti benedica il signore sia con voi palle però e no dai scivoli pure no ma mi ha fatto ricco come la leva dal palo proprio ma come l'ha messa dentro e nooo e mai ne hai parata un'altra cioè ma hai fatto certe parate e tu sta a vincere con una manata no non sto a vincere sto a pareggiare vabbè per me è come se stessi a vincere 4 a 4 4 di dei tuoi facciamo perdere va intanto è sempre quello il discorso con te non cambia mai cerco l'inserimento del ney gamer del game è buona si cazzo merda no no dai ma che è messa da fare qua guarda 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 e fallo ma non l'ho fatto ma non l'ho scivolato ma non l'ho scivolato ma non l'ho scivolato ma io non l'ho scivolato ma mi ho fatto l'ho scivolato in automatico te dai ma non l'ho ammazzato ma non l'ho ammazzato ma che te posso fare ma se mi fanno girare i coglioni che tu non te l'ammaggini eh io voce non l'ammaggini ma che cazzo mi invento eh che devo inventare aspetta aspetta come se faceva il portiere devo selezionare il portiere nooo madonna non mi hai dato manco tempo che lo tenevo che c'hai cioè hai trovato mamma state zitto state zitto state zitto che c**o che devi avere guarda io non lo so che c**o che devo avere sta vince con una mano sta vince sta fare già si ho capito stai pure per vince però con una cazzo di mano è una vergogna è una vergogna manco la la volevo da e dai però cazzo dai e dai oh un attimo l'ho vista a fare ronardo il fenomeno guardate come va a comandare ma ha segnato il pelatore de turno c'è col maglietto col stupito lo rompego io andiamo a comandarlo te lo ripeto voglio riguardarlo hanno fatto la mucchiata cioè ma tu mi devi spiegare la nuova il retro passaggio qua non era voluto poi qua l'ho visto l'ho bucato l'ho mannato dentro popi 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 aggiungerei è implacabile è implacabile è insazia guarda che passaggio chi è quello che mi ha fatto questo passaggio pesavisse in righe ma che passaggi che fa ragazzi miei mi ha fatto fangolle di quelli esagerati due a uno per non rompere le palla sostituzione ecco dai che buono dai che buono dai che buono dai che buono dai che si buono dai che si buono dai che si buono dai che si buono e tagliè il pareggio ma se hai fatto pudire uno dè mano e uno a culo e dei santa e hai visto lo dico ed hai fatto un cazzo guarda lo dico 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 Dai che sbuena, 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 la fregna di, di tua madre, no no, la tua proprio, che fallo, no, ma a chi, che fallo per me, cioè ma io stavo andamene fuori, che cazzo voi, dai che sbuena ancora, ancora calcio d'angolo, Mamma mia che palle questo, la sofferenza, stavo al 95esimo, il tempo è scaduto, che te posso fare io? No, no, di Arrano, se l'arbitro è un fischio, no, l'ha fatto pure prende, me l'hai fatto prende, ma che stai, oh, mamma mia pichè, tacci tua, oltre il recupero, ma oltre la tua zia, ma quale recupero, mannaggia quel porco, hai segnato di mano, oh, partita equilibratissima, abbiamo fatto tutto uguale c'è sta un pollo alle mano che non doveva essere assegnato tutto uguale quanti like prossimo video? no, dimostro 600 no, questa è una super sfida questa è una super sfida tra me e te se volete un nuovo video 800 like 800 like arriva la bella no, arriva la seconda sfida la rivincita la riparecita una nuova sfida ancora senza tempi supplementari e rigori poi la bella si farà con i tempi supplementari e i rigori va bene? mettete un bel mi piace, commentate, condividete iscrivetevi al canale detto questo vediamo appuntamento alla prossima sfida ragazzi che vincerò io